Credo che sia molto importante comunicare alla gente che esistono dei sistemi di prevenzione per il peggioramento della miopia nei bambini e negli adolescini, fino all'adolescenza. Blocchio mio per un occhio che tende ad allungarsi nel tempo. Per evitare questo abbiamo visto che sui bambini in particolare sono efficaci 1. L'attività all'aria aperta, 2. L'utilizzo di un collirio a base di atropina e 3. Una procedura che si chiama ortochiratologia notturna, cioè delle lenti a contatto che messe di notte permettono di ridurre la miopia durante il giorno. L'atropina a basso dosaggio e messa una goccia al giorno per gli anni dello sviluppo, vuol dire dai 2 ai 5 anni, ci permette di ridurre l'incremento e l'aumento e lo sconfinamento nelle miopie patologiche. Utilizzare l'ortochiratologia notturna determina un miglioramento ulteriore, cioè un minor peggioramento della miopia.